Stavate un po' concentrati, se stavano, guarda, questi, vanno, non li rispondono. Questi stavano tutti vanno la stessa cosa, eh no? E' il testo di calci, sta mattina. T'ho mandato l'indirizzo preciso del bar, eh no? A me non l'ha mandato, a lui l'ho mandato? Pure a lui l'ho mandato. Te l'ho mandato, non hai aperto Whatsapp stamattina. Ma tu devi pensare che io ti penso. Tu devi pensare che io ti penso. Perché cercavo chi pagava il caffè, invece niente, ha fatto finta di niente. Cazzo ho subito stamattina di Rio de Janeiro. Grazie.